che ho visto prima e ringrazio Mario, ringrazio Adolfo per avermi chiamato a coordinare questa lezione che terrà l'amico professor Maurizio Leo appunto sulle tematiche relative al bilancio. Saluto anche tutti i partecipanti a questa lezione e io direi senza perdere ulteriore tempo di andare a una breve introduzione sull'argomento che tratteremo per cedere poi la parola a Maurizio Leo che terrà appunto la lezione di questa sera. Ricordo che il professor Maurizio Leo è stato già viceministro dell'economia, è ordinario di diritto tributario, è stato anche assessore al bilancio di Roma Capitale, insomma uno dei massimi esperti in materia di bilancio e in materia tributaria per cui ci sarà l'occasione questa sera sicuramente di approfondimenti interessanti. Invito anche chi ci segue, ci ascolta e chi ci vede a interlocuire con noi tramite la chat, tramite il sottoscritto in chat, così potremo compatibilmente con i tempi della lezione senza sforare particolarmente, raccogliere le domande più significative, magari penserò io a raggrupparle in tematiche più o meno omogenee per poter poi alternare la lezione di Maurizio Leo, andare a rispondere non so se a tutti ma comunque sicuramente a più di qualcuno per andare a chiarire qualche dubbio o dare delle risposte rispetto a tematiche che possano essere poste nel corso appunto della lezione di questa sera. Legge di bilancio siamo assolutamente sul pezzo, siamo in tema perché ci troviamo i primi di dicembre e quindi ci troviamo proprio nei lavori parlamentari che dopo l'intermezzo, chiamiamolo così, di questa settimana relativo proprio alle tematiche dell'immigrazione, del decreto quindi al 21 dicembre la legge finanziaria. Io non devo dire molte cose anche perché assolutamente il mio compito è semplicemente di coordinatore, semplicemente proprio per introdurre il tema e la lezione di oggi ricordo a me stesso e agli amici che ci seguono come il bilancio sia di fatto una legge fondamentale dello Stato, insomma penso e spero che poi l'amico Maurizio mi conforterà in questa affermazione perché è la legge con la quale si stabilisce come prendere risorse, quante risorse prendere e come impiegarle. Quindi sostanzialmente di fronte e accanto ai freddi numeri che compongono i documenti di bilancio in realtà ci sono delle chiare politiche economiche e delle visioni spesso anche diverse di sviluppo del Paese. Si diceva che il bilancio può fotografarsi in tre grandi linee temporali, una linea verso il futuro e quindi sono i documenti di programmazione, quindi il famoso DEF di aprile, la nota di aggiornamento che si presenta al NADEF entro il 27 di settembre, il documento di programmazione e bilancio di ottobre, la trasmissione alla Commissione Europea, il documento di programmazione poi ritorna in Italia con le eventuali osservazioni e si entra in una sessione di bilancio vera e propria, appunto quella che tendenzialmente si compie fra Commissione Europea nel mese di dicembre fino al voto finale del 31 di dicembre. Oltre a questo e quindi al bilancio della programmazione diennale e triennale, esistono altre due fasi. Una la possiamo definire una fotografia storica del passato e del rendiconto che si approva entro il 30 giugno e l'altra la gestione corrente con quello che negli anni normali, in genere sempre nel mese di giugno, a fine giugno è la manovra di assestamento di bilancio. Questo è un anno un po' particolare, lo sappiamo tutti, veramente vado a concludere la mia introduzione che vuole essere breve perché per l'emergenza Covid ci troviamo in una legislazione speciale e quindi abbiamo già avuto quattro scostamenti di bilancio, l'ultimo recentissimo di ulteriori 8 miliardi di euro, per un totale di 113 miliardi di disallineamento di bilancio tra i vari Cure Italia, Salva Italia, Decreto Agosto e Ristori Quadro. È una situazione molto molto particolare, non c'è bisogno di sottolinearlo, tra le altre cose è un indebitamento molto pesante e vedremo come andrà in futuro la questione relativa al Recovery Fund, ma è evidente che la scommessa è una di quelle scommesse particolari perché i soldi sono tanti, appunto ripeto, oltre 100 miliardi, esattamente 130 di scostamento e disallineamento e quindi è chiaro che le ipoteche sul futuro sono particolarmente pesanti. Qui voglio soltanto ricordare che, come dicevo all'inizio e così concludo anche questa introduzione che vuole essere breve, che le politiche di bilancio non sono indifferenti. Ne ricordo una sola. Nel bilancio pluriannale, nel documento di programmazione pluriannale, triannale, il reddito di cittadinanza, che è uno degli elementi di maggiore discussione in questo periodo, in questi anni, occupa per quasi 24 miliardi di euro. Lo dico non soltanto perché la parte soltanto minima di queste risorse sarà effettivamente impegnata e talvolta, lo dico per me, anche male, secondo un altro vedendo quello che esce nella notizia di stampa, insomma le cronache, anche quotidiane, anche di questi giorni e di queste settimane, ma si tratta di provvedimenti non strutturali che gravano fortemente sulle casse dello Stato e che non consentono quello che invece noi riteniamo sarebbe il giusto e cioè se bisogna indebitarsi farlo per infrastrutturare il paese, per abbassare le tasse, per far respirare le imprese, quindi permettere all'economia di andare avanti, di risorgere, per semplificare la burocrazia, penso che non so se Maurizio accenderà Maurizio Reo a tutto il sistema, anche delle aliquote che rimane farraginoso, rimane particolarmente pesante. Io penso che una delle proposte più interessanti, con questo veramente mi fermo, tra l'altro l'avanzata da Fratelli d'Italia, sia stata quella dell'anno bianco fiscale e cioè una sorta di somma algebrica fra i maggiori utili del 2019 e le perdite del 2020, andando sostanzialmente a considerare l'anno assolutamente particolare e eccezionale nel quale ci troviamo a vivere. Chiaramente non sarà accolta, come non è stata accolta l'altra proposta di portare la ritenuta da conto dal 60 al 100% e altre proposte diciamo che vanno in direzione di un aiuto concreto alla piccola e media impresa, sempre nell'ottica però di un interesse generale e quindi di un abbassamento della pressione fiscale e di guardare in prospettiva in maniera da superare questi interventi a pioggia che stanno appunto drenando le risorse dello Stato senza dare un respiro particolare all'economia. Questo per rimanere un pochino nell'attualità. Ecco, il bilancio, lo sapete e concludo veramente, si compone di emissioni, all'interno delle emissioni bisogno di macroaggregati programmi e poi delle azioni puntuali nelle quali si esercita e con le quali si esercita l'azione di governo. Ovviamente i vincoli sono anche di natura europea ma questo fa una parte, penso appunto, della lezione di questa sera. Io non credo di aggiungere altro ma rimango assolutamente a disposizione per, come dicevo prima, per coordinare eventuali interventi in chat in questa ora circa di lezione che terrà l'amico professor Maurizio Leo e poi per rispondere eventualmente a domande, curiosità, osservazioni che possano essere avanzate in questa fase. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti all'Unione di oggi, ringrazio l'amico Ciampi, il segretario generale dell'Osservatore parlamentare, l'amico senatore Adolfo Urso e ovviamente l'amico Maurizio Leo al quale, se siamo d'accordo, appunto ci darei la parola per iniziare la lezione di questa sera. Grazie. Allora, grazie Sergio, buonasera a tutti, ciao Mario, ciao a tutti quanti. Se ci sono difficoltà di audio avvisatemi perché così magari riprendo il ragionamento. Già Sergio ha un po' illustrato qual è il percorso temporale della legge di bilancio che è la legge fondamentale dello Stato. È un po' la legge in cui vengono riassunti tutti gli elementi che compongono poi il meccanismo di gestione dei conti dello Stato. Dobbiamo dire che la legge di bilancio ha avuto delle fasi, delle fasi, perché possiamo dire che fino al 2009 la legge di bilancio era costruita un po' come una sorta di interna corporis, vale a dire era una legge che doveva diciamo prevedere le entrate e le spese che si facevano nel corso dell'esercizio finanziario, ma l'Unione Europea aveva su questa legge di bilancio un monitoraggio, ma un monitoraggio non così puntuale come poi ebbe a verificarsi negli anni successivi. Quindi nel 2009 abbiamo avuto per effetto della legge 196 l'assetto dell'attuale legge di bilancio, ma la svolta l'abbiamo avuta nel 2011, perché nel 2011 l'Unione Europea che cosa ha fatto? Ha avuto un intervento molto più massiccio e incisivo su quelle che sono i nostri documenti di bilancio e in generale sulla legge di contabilità nazionale. E che come l'ha fatto? L'ha fatto con il famoso SIXPAC, ossia una direttiva comunitaria del 2011 a cui è fatto seguito un regolamento del 2013 dove l'Unione Europea ha sostanzialmente detto, dice io voglio in qualche modo, visto che i principi fondanti del patto di stabilità e crescita sono appunto legati a tenere sotto controllo il debito pubblico, il deficit e l'inflazione, dice io devo avere un monitoraggio, una visione molto più puntuale di quelli che sono i conti pubblici italiani. E come ha fatto? Come si è organizzato? Si è organizzato inserendo una fase preliminare a quello che poi sono i veri e propri atti di bilancio in cui ha dato delle linee guida, degli indirizzi. E questo l'ha fatto con il famoso semestre europeo. Quindi il 2011 rappresenta un po' una svolta sia a livello europeo sia a livello nazionale per la redazione dei bilanci di tutti gli stati appartenenti all'Unione Europea. E che cosa è successo? Possiamo dire che nel 2011 si è detto c'è una fase precedente a quella della costruzione del vero e proprio bilancio in cui l'Unione Europea, la Commissione, il Consiglio Europeo, fissano, danno delle linee guida. Quindi in qualche modo delineano quella che sarà l'azione economica, l'azione diciamo economico-finanziaria dello Stato. Quindi a gennaio la Commissione Europea fa quella che viene detta l'indagine annuale sulla crescita. Quindi incomincia a delineare quella che è la prospettiva di crescita dei singoli stati dell'Unione Europea. Poi c'è una fase che è da direttamente dal Consiglio Europeo nell'asso temporale febbraio-marzo. Il Consiglio Europeo che cosa fa? Elabora quelle che sono le linee guida di politica economica e di bilancio sia a livello dell'Unione Europea sia a livello degli stati negli. Superata questa fase entrano in gioco gli stati. E allora come operano gli stati e segnatamente come opera l'Italia. Ecco il primo documento che viene approvato in vista poi della diciamo della legge di bilancio, il primo provvedimento che come dicevamo e come ricordava poco fa Sergio è un documento di natura programmatica. È il cosiddetto documento di economia e finanza che il governo presenta alle Camere e le Camere su questo documento devono pronunciarsi attraverso una risoluzione. Quindi il documento, il famoso DEF, documento di economia e finanza, fissa quelle che sono le linee guida a cui poi si uniformerà il governo nella predisposizione dei veri e propri provvedimenti. Ecco questo documento di finanza sostanzialmente in tre sezioni diciamo. Nella prima è il programma di stabilità. È quello che deve essere fatto proprio nel rispetto delle regole europee, il contenimento del deficit, il contenimento del debito pubblico e il contenimento dell'inflazione. Questa è la prima parte. La seconda parte attiene proprio a quelli che sono i veri e propri conti che devono essere considerati. E poi c'è il programma nazionale di riforma. Quindi il DEF, che è il primo documento che viene predisposto in vista dell'approvazione del bilancio, è così strutturato. Prima parte programma di stabilità, seconda parte dove vengono enunciati diciamo le movimentazioni di entrate e di uscita sia a legislazione vigente, quindi senza e considerando anche il cosiddetto tendenziale. Che cos'è il tendenziale? Si parte dalla legislazione vigente, si vede quale può essere lo sviluppo diciamo economico-finanziario dell'anno e poi si dà una visione prospettica, vale a dire quali potrebbero essere gli interventi che potrebbero essere fatti in vista della legge di bilancio. E poi il terzo segmento di questo DEF è rappresentato appunto dal cosiddetto piano nazionale di riforma, che è una parte molto rilevante. Il piano nazionale di riforma individua quali interventi si intendono fare per modificare i diversi assetti dei nostri ordinamenti. Avete sicuramente sentito parlare nel piano di riforma della revisione infrastrutturale, adesso è la digitalizzazione, come pure il green, gli interventi nel settore ambientale e via dicendo. Che succede? Che questo piano programma, quindi il DEF e il piano nazionale di riforma vengono poi inviate agli organismi europei, i quali si devono pronunciare, fanno delle raccomandazioni e le fanno di solito nel mese di giugno. Nel mese di giugno poi si supera la pausa estiva, la pausa agostana e nel mese di settembre di nuovo la palla ritorna al governo. E il governo che cosa deve fare? Deve fare la cosiddetta nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Che cos'è questa nota di aggiornamento? Visto che si è fatta la fotografia ad aprile di quella che è la situazione economico-finanziaria, sia a legislazione vigente, sia in prospettiva, tenendo conto anche del piano di riforma, si tiene conto di quella che è l'evoluzione del Paese, l'evoluzione economica e finanziaria del Paese in questo intervallo temporale da aprile a settembre. E quindi con la nota di aggiornamento si rivedono un po' le stime, si rivedono i calcoli. E questa nota di aggiornamento deve essere varata entro il 27 di settembre. Ma questa nota di aggiornamento, anche su questa poi si pronuncia il Parlamento, perché il Parlamento deve poi adottare una risoluzione di approvazione di questa nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Ma non finisce qui, perché poi bisogna, come vi dicevo, avere come interlocutore ormai essenziale l'Unione Europea. Quindi a fronte della nota di aggiornamento bisogna che il Governo poi emani un altro documento entro il 15 di ottobre, che è il documento programmatico di bilancio. Che cos'è il documento programmatico di bilancio? È quello che prende le note dal documento di economia e finanza, dalla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza e dice quale sarà il programma che poi si intende varare, tenuto conto anche del piano delle riforme, che si intende varare, diciamo, per l'anno successivo. Questa trasmissione avviene entro il 15 di ottobre. Superata questa fase, entriamo proprio nel via. Questa, diciamo, può essere considerata la fase programmatica. La fase operativa, invece, inizia con la presentazione del disegno di legge di bilancio. Attenzione, ecco, perché dicevo che nel corso del tempo le cose sono cambiate? Perché in passato noi avevamo sostanzialmente due documenti che riassumevano i conti pubblici. Una parte la legge finanziaria, la legge di bilancio. Poi è stata modificata anche la legge, la legge finanziaria è diventata legge di stabilità e rimaneva sempre in piedi la legge di bilancio. Con la riforma del 2016, il documento è unico. Si chiama legge di bilancio, ma è strutturata in due parti. La prima parte è la cosiddetta vera e propria legge di stabilità. La semplifico. La legge di stabilità non è nient'altro che, diciamo, gli interventi normativi che poi devono essere corredati da incrementi di entrate o incrementi di spese, riduzione di spese, quindi per poi arrivare al cosiddetto saldo da finanziare, la legge di stabilità sostanzialmente racchiude tutti quegli interventi che si intendono fare per l'esercizio finanziario a cui si riferisce la legge di bilancio. La seconda parte è la legge di bilancio vera e propria, quindi il declinare questi interventi nell'ambito dei conti annuali, quindi vedere quanto costano in termini di entrate e di spese e farlo sia sulla base della legislazione vigente, sia sulla base di quella che sono gli interventi che la parte stabilità, diciamo, indica nella prima parte del documento legge di bilancio. Quindi, rievilogando, la legge di bilancio che prima era strutturata in due, aveva due filoni, aveva la legge finanziaria e poi legge di stabilità e la legge di bilancio erano due provvedimenti autonomi e ora sono compendiati in un unico documento che è la legge di bilancio, che è strutturata in due parti. Una prima parte è la legge di stabilità, diciamo, la parte che riguarda la stabilità e la seconda parte che riguarda il bilancio vero e proprio. Viene presentato entro il 20 di ottobre questa legge di bilancio in Parlamento. Che cosa fa il Parlamento? Il Parlamento deve, nei due rami, esaminare il provvedimento, il disegno di legge di bilancio e qui c'è una tempistica diversa. Di solito, nell'approvazione della legge di bilancio, ci si alterna. Per un anno inizia la Camera dei Deputati e c'è a disposizione un lasso temporale di 45 giorni per approvare la legge di bilancio. Poi passa all'altro ramo del Parlamento, passa al Senato, supponiamo, e il Senato ha a disposizione altri 35 giorni. Di solito si fa una navetta perché il Senato poi di solito interviene nuovamente, lo rimanda alla Camera e poi di solito negli ultimi anni abbiamo visto che la strada che si segue è proprio quella del maxiemendamento e quindi con voto di fiducia. Ecco, quindi i passaggi sono questi. Un primo ramo del Parlamento ha a disposizione di 45 giorni di provare l'inchiesta, lo manda all'altro ramo del Parlamento che ha a disposizione altri 35 giorni, i quali la legge deve essere approvata e deve essere approvata entro il 31 dicembre. Se non viene approvata entro il 31 dicembre si entra in un meccanismo perverso che è quello dell'esercizio provvisorio, quindi non si può fare, in particolare spendere, per dodicesimi di quello che viene stabilito dalla legge. Quindi è una situazione che sicuramente è preoccupante nella gestione dei conti pubblici. Detto questo, Detto questo, quindi fatta un po' questa panoramica, non finisce qui perché voi sapete che la legge di bilancio è una legge che deve contenere previsioni economiche e previsioni finanziarie, ma a questa si devono accompagnare anche dei provvedimenti collegati alla legge di bilancio. Se si vuole per esempio pensare a una riforma di un settore, se si vuole pensare a un riassetto di un comparto dell'amministrazione, non lo si può fare direttamente nella legge di bilancio, perché la legge di bilancio, come dicevo, deve presentare previsioni di entrata o di spesa, ma non può presentare elementi ordinamentali, perché questi elementi ordinamentali invece possono essere rimessi a provvedimenti collegati alla legge di bilancio. Cioè si attempo, entro il 31 gennaio dell'anno in cui è entrata in vigore la legge di bilancio, per presentare i provvedimenti ordinamentali. Quindi questi i cosiddetti provvedimenti collegati alla legge di bilancio. Ecco, ho ritenuto di fare un po' questo escursus, diciamo, temporale per dare un po' il quadro di com'è complesso l'iter corso temporale della legge di bilancio. Ora vorrei spendere qualche minuto invece per dire che cosa è successo quest'anno. Quest'anno ci troviamo in una situazione abbastanza paradossale, perché come vi dicevo, il termine per la presentazione della legge di bilancio era il 20 e questa, diciamo, questa previsione in linea formale è stata ottemperata, perché il 18, c'è stato il Consiglio dei Ministri, il 18 il Consiglio dei Ministri ha provato, salvo intese, il disegno di legge di bilancio. Però purtroppo tra la presentazione del disegno di legge di bilancio e la presentazione alle Camere è intercorso quasi un mese, quindi è un unicum rispetto a quella che è la tempistica dell'approvazione delle leggi di bilancio. È la prima volta che a novembre inoltrato, quasi a ridosso del mese di dicembre, le Camere si sono viste recapitare la legge di bilancio. Quindi sostanzialmente la presa in giro, consentitemi questo termine, da parte del governo, in che cosa è consistito? Di presentare una sorta di scatola vuota, di presentare una legge di bilancio di cui si conosceva in termini generali il contenuto, ma concretamente la si è vista solo quasi alla fine del mese di novembre, quindi c'è stato un intervallo temporale molto ampio nel quale un po' tutti gli operatori, tutti gli addetti ai lavori erano rimasti disorientati, ma entrerà o meno quella misura, si farà o meno quell'intervento. Quindi questo che viene definito lo strumento dei parlamentari, perché che succede? Adesso la Camera avrà a disposizione di quella tempistica che dicevo, 45-35 giorni. Ora la Camera nel fare l'esame, Sergio lo sa bene perché segue i lavori parlamentari, adesso si stanno esaminando gli emendamenti, mi pare che il 9 iniziano a esaminare gli emendamenti, in commissione bilancio, quindi i tempi per la commissione bilancio. Mi pare che deve andare in aula verso il 18 giù di lì, in aula alla Camera, poi ovviamente se deve entrare in vigore il 31 di dicembre, la legge bilancio è impensabile che il Senato possa fare un esame approfondito della materia. Quindi il primo vulnus a questa situazione è che sarà strozzato il dibattito parlamentare e poi alla fine inesorabilmente si andrà a un voto di fiducia su questo tema. Tra l'altro ricordo proprio un intervento di Sabino Cassese, che è un illustre costituzionalista, che ha detto che qui c'è un monocameralismo alternato, alla fine che succede? Che i provvedimenti legislativi vengono esaminati da un solo ramo del Parlamento, al di fuori di quello che era la riforma Renzi, che voleva andare a un meccanismo di un'unica Camera che avrebbe dovuto esaminare i provvedimenti normativi. Ci stiamo arrivando di fatto, perché soprattutto è una legge di bilancio, poi l'altro ramo del Parlamento non potrà discutere, perché alla fine il testo viene approvato in tutto il suo contenuto, in tutta la sua complessità solo da un ramo del Parlamento. L'altro ramo dovrà semplicemente votare la fiducia. Quindi questo è il primo vulnus a questa situazione. Ma detto questo, una volta descritti i tempi, una volta evidenziate quali sono le criticità soprattutto di questa legge di bilancio, io, come diceva Sergio, mi soffermerei anche su quello che è il contenuto di questa legge di bilancio, la legge di bilancio 2021. E qui ci troviamo anche in una situazione abbastanza paradossale. La legge di bilancio prevede, diciamo, la manovra sostanzialmente, una manovra che si attesta sui treni e molti soffermano l'attenzione sulla legge di bilancio, ma c'è un'altra legge di bilancio nascosta che sono, come diceva Sergio, i cosiddetti decreti ristori. Siamo al decreto ristori quater, che erano misure che dovevano venire incontro alle imprese, al mondo economico, che hanno avuto oggettive difficoltà nel gestire questa fase della pandemia. E allora, con i vari ristori, dall'uno al quater, sostanzialmente, se andiamo a vedere le risorse che sono state stanziate per questi ristori, vediamo che queste risorse, dei ristori prevalgono alla manovra della legge di bilancio. I decreti ristori si attestano su circa 40 miliardi. Da ultimo c'è stato lo scostamento di bilancio per 8 miliardi di euro, votato da tutti, da tutti i partiti, ma 8 miliardi sono andati a implementare le risorse dei decreti ristori. Quindi oggi ci abbiamo. Una legge di bilancio che sta facendo il suo corso e vedremo poi quali sono i contenuti. E sull'altro lato abbiamo i decreti ristori. E non finisce qui, non saremmo solo al ristori quater, già si annuncia che ci sarà un quinquies che verrà varato a gennaio. Ma questi ristori stanno generando, soprattutto per la parte fiscale, confusione enorme. Perché? Che cosa sta succedendo? Sta succedendo questo, che i contribuenti che non potevano onorare i loro debiti tributari nel corso del 2020, dall'8 di marzo fino ad oggi, hanno, diciamo, con una tecnica a singhiozzo, fruito di una serie di slittamenti che, diciamo, si intervenivano tra un ristori e un altro. C'era stato, anzi, addirittura nel decreto di agosto, noi da quando purtroppo c'è questa pandemia abbiamo avuto tantissimi provvedimenti, abbiamo avuto il Curitalia, abbiamo avuto il decreto liquidità, abbiamo avuto il Salva Italia, abbiamo avuto il decreto agosto, abbiamo avuto tutti i decreti ristori. Quindi ci troviamo, questa tecnica legislativa è assolutamente deprecabile, perché è una tecnica legislativa che disorienta e non consente neanche agli operatori di gestire in modo, diciamo, in modo sereno, in modo tranquillo, in modo certo, e questo è il bonus soprattutto di questo modo di legiferare, perché bisogna dare certezza a chi poi deve applicare queste norme di legge. Questa certezza oggi non c'è. E ci troviamo con quest'ultimo decreto ristori, che io lo vedo, insomma, come parte che completa la manovra finanziaria del 2021. Un decreto ristori che slitta al 2021, per questo dico è collegato al bilancio, alla legge di bilancio 2021, fa slittare al 2021 tutta una serie di adempimenti. Quali sono questi adempimenti? I versamenti degli acconti. Voi sapete bene che entro il 30 del mese di novembre si doveva pagare la seconda rata dell'acconto e si doveva pagare, diciamo, la seconda o prima o unica rata dell'acconto. Che cosa fa il governo? Slitta. Ecco l'impatto che avrà questa misura sul bilancio 2000, sulla situazione dell'esercizio 2021. Fa slittare questo pagamento degli acconti al 2021. Il governo? Slittare ad aprile. Slittare ad aprile inciderà sui conti dell'esercizio 2021. Però, che governo? Eccola, diciamo, il corretto di procedere. Lascia in piedi il pagamento di questa seconda rata o unica rata di acconto ad aprile, quando poi il saldo delle imposte del 2020 si dovrà fare a distanza di poco tempo, si dovrà fare tra giugno e luglio. Allora io dico, ma in modo molto più trasparente, visto che l'acconto, diciamo, è un aspetto di natura meramente finanziaria, mentre quando si paga il saldo è quello il momento essenziale, il momento fondamentale in cui si sa tutto il reddito che si è percepito. Ma non valeva la pena, in modo, ecco, ritorno al principio della certezza, dice non valeva la pena dire, guardate che il saldo non c'è, poi non vi sto a dire le complicazioni tra zone rosse, zone arancioni, i ristoranti che comunque si trovano non pagano l'acconto, altri che invece si trovano nella zona gialla lo devono pagare, i codici a teco, è una confusione che la metà basta. Dico, ma non aveva più senso, non aveva senso di dire, dice, ma sentite, facciamo una cosa, gli acconti non si pagano nel 2020 e paghiamo direttamente il saldo. Chi c'ha avuto un reddito pagherà, chi non c'ha avuto un reddito non pagherà, senza andare a fare queste differenziazioni, fare il raffronto del semestre 2019 col semestre 2020, vedere se l'impresa ha superato a noi 50 milioni di fatturata, è una complicazione che degna di miglior causa, quindi si doveva evitare questo. Comeppure, vedete l'assurdo a cui si è arrivato, si è detto, guardate che ci sono altre cose che non sono state pagate. Voi sapete che c'è stato un periodo di sospensione dei pagamenti, di IVA, di ritenute e via dicendo. Pure queste cose che devono essere pagate entro dicembre, le si sono passate. Allora, se il risultato non fa più niente, che costo ci sarà per i contribuenti nel 2020? I contribuenti dovranno pagare tutto ciò che è stato sospeso dall'8 di marzo del 2020 fino al 31 di dicembre. Non sia mai che abbiano fatto una rottamazione dei ruoli piuttosto che un saldo estralcio. dovranno pagare in quel momento tutta una massa di somme di cui non disporranno. Allora, ecco che una delle cose che ho suggerito di fare, ora troveranno ingresso, penso negli emendamenti che Fratelli d'Italia presenteranno i decreti ristori, di dire, ma scusate un attimo, se si deve fare questa cosa, facciamo tutto in modo più semplice. Fissiamo che le somme che devono essere versate a una certa data, siano rateizzabili. Pensate a tutte le iscrizioni a ruolo, le cartelle, tutta questa massa di roba che si riverzerà sui contribuenti nel 2021. Dice, posto che devi pagare 100, io te lo faccio rateizzare su 2-3 anni, in modo tale che è in grado il contribuente di poter affrontare, diciamo, questo importo. Perché altrimenti non ce la fai. Ritorneremo nel 2021 nella stessa identica situazione del 2020, per cui la gente non avrà le risorse e non potrà onorare i debiti tributari. Quindi questo per dirvi che il decreto ristori è un altro provvedimento, una serie di provvedimenti e non abbiamo visto la fine, perché già, come avete avuto modo di vedere, anche sulla stampa specializzata, già si annuncia un ristori quinquest che verrà fatto a gennaio. Quindi è una partita, è un film che ancora non è finito, vedremo come andrà. Ritorniamo alla legge di bilancio. Ho fatto questo inciso sui ristori, perché, come vi dicevo, li vedo un po' correlati alla legge di bilancio, sia per i numeri e sia per gli adempimenti che dovranno essere fatti nel 2020. Ma andiamo alla legge di bilancio. Se ce la leggiamo, vediamo che anche qui non abbiamo degli interventi mirati, degli interventi, diciamo, che intervengono in modo serio su questo, su quel settore. Abbiamo una serie di micromisure, per esempio, nell'agricoltura. Nell'agricoltura vengono inseriti tutta una serie di fondi, ma si esonera, questa è una cosa che, diciamo, volle fare Renzi, quello si esonera dalla tassazione in reddito dominicale, in reddito agrario. Quindi il soggetto che è imprenditore agricolo, iscritto agli imprenditori agricoli professionali, e la previdenza agricola, non pagherà nel 2021 le imposte, diciamo, sui redditi fondiari, quindi reddito dominicale e reddito agrario. Poi ci sono tutta una serie di misure che riguardano il comparto trasporti, il comparto difese e via dicendo. Ma il core business di questa manovra, quello che era stato annunciato e poi non si è assolutamente realizzato, riguarda la cosiddetta riforma fiscale. Allora, se voi avete avuto un modo di, sicuramente avete avuto un modo di leggere la stampa, i quotidiani normali, o la stampa specializzata, noi abbiamo passato tutta l'estate a sentire il ministro dell'economia che parlava di progressività alla tedesca, tutti che parlavano, quando hanno fatto il famoso meeting di Villa Panfili, la cosiddetta commissione Collao, tutti si interrogavano sulla riforma fiscale che avrebbe dovuto vedere la luce nel 2021, andiamo a leggerci la legge di bilancio e che cosa troviamo. Troviamo che nel 2021 non si farà niente. Al di fuori di che cosa? Al di fuori di risorse che vengono stanziate per, diciamo, risorse a figlia, i figli, i bonus bebè, ma la riforma fiscale, quella che è necessaria per aiutare soprattutto le classi medie, non ce n'è traccia. Ci sono delle risorse stanziate per il 2022 e per il 2023. Ricordo che il bilancio è un bilancio triennale, quindi che non ha una valenza per un solo anno, ma per più anni. Allora, che cosa si dice in queste misure? Si dice che si deve, si crea un fondo di 8 miliardi per la riforma fiscale nel 2022 e di 7 miliardi nel 2023. E di questi 8 miliardi del 2022, 5 saranno destinati proprio al cosiddetto assegno familiare, quindi un qualcosa che deve essere dato al nucleo familiare per la fronte alle esigenze dei figli, per tutto, dove verranno compendiate tutta una serie di misure. Bene, quindi nel 2021 non ci sarà traccia di riforma fiscale, quindi staremo ancora con tutti i meccanismi ormai datati che, ricordiamoci che la riforma fiscale risale agli anni 70, perché l'IRPEF, l'allora IRPEG e via dicendo, furono dei provvedimenti adottati all'inizio degli anni 70 e dopo numerosissime modifiche, correzioni e integrazioni si è completamente snaturato quello che era l'impianto originario fatto da economisti, da giuristi di valore, penso a Cesare Cosciani, penso a De Gennaro, penso a Visentini, sia persone che avevano una visione strategica di quella che doveva essere la fiscalità. Da allora ad oggi nulla più si è fatto. E allora però se ne è parlato, se ne parla di fisco ma non si realizza nulla e se ne parla, per esempio, introducendola così, parlando di progressività alla tedesca. Oggi proprio leggevo che, mi sembra sabato, il PD, il responsabile economico del Partito Democratico, un certo Felici, dice, non so se è un economista, non lo conosco personalmente, dice, ma noi porteremo al tavolo delle trattative con il governo la riforma alla tedesca. Dico, però cerchiamo di capire questa riforma alla tedesca. Noi mutuiamo sempre modelli da altri contesti territoriali, ma vediamo come funziona. È una progressività continua. Come funziona? È che c'è una sorta di no tax area, sino a 9.000 euro, dove non si pagano imposti. Sostanzialmente è un po' la nostra no tax area interna. Poi abbiamo un intervallo che va da 9.000 euro, sino a 42.000 euro, dove abbiamo un'aliquota crescente continua, che va da 42%. Poi, dai 55.000 euro, sino a 260.000 euro, un'aliquota fissa del 42%. Oltre i 260.000 euro andiamo al 45%. Ora, potrebbe sembrare una cosa ben fatta, se non fosse che il contribuente non è in grado di determinare esattamente quant'è l'imposta che deve pagare. Se voi andate a leggere chi si occupa, chi ha commentato questi provvedimenti, si dice, ma guardate che è facile, perché il contribuente, una volta che conosce il suo reddito, si applica la cosiddetta aliquota media e sa quanto deve pagare. Dice, sì, ma attenzione, questa aliquota media è il frutto di un algoritmo, quindi non è in grado il contribuente da solo di poter dire quanto è effettivamente l'incidenza che è riferibile a certi componenti agevolativi, tipo delle detrazioni. Oggi come funziona? Noi abbiamo il nostro reddito, si applicano le aliquote progressive per scaglioni, poi si arriva a un'imposta all'orda, ma da qua si tolgono le detrazioni, pensiamo alle detrazioni per la produzione del reddito, pensiamo alle detrazioni per familiari a carico, gli interessi passivi, le spese mediche, quindi tutta una serie di componenti che oggi il contribuente è in grado di conoscere, sono pure troppe, vanno un po' abolite, vanno un po' sistemate, oggi sono tantissime, queste sono d'accordo con chi dice che vanno razionalizzate, però oggi il contribuente è in grado di dire, dice io ho guadagnato 100, so che applicando le aliquote progressive per scaglioni arrivo a pagare, su questi 100 di reddito ho un'imposta all'orda di 30, da questi 30 ci vado a togliere le detrazioni per interessi passivi, per spese mediche, per carichi di famiglia e so quant'è l'imposta che devo pagare. Ora tutto questo non sarà dato sapere con il meccanismo della progressività alla tedesca, perché entrano in gioco gli algoritmi dove l'amministrazione dice non ti vuoi che tu ti metti a vedere le detrazioni, le spese di produzione del reddito, ti dico io qual è l'aliquota media sul tuo reddito e finisce lì. Allora io dico, ma questo non mette in difficoltà, oggi un contribuente con un minimo di spesa riuscire a capire, dice fammi capire se voglio acquistare una casa e sostengo gli investimenti, debbo capire in quel punto di indebitare che effetto fiscale avrò. Questo non si potrà più fare con l'algoritmo di amministrazione che dirà qual è l'aliquota e come si applicherà. Quindi è un sistema che sicuramente io non condivido. E dico, c'è un modo e modo di cambiare il sistema attuale. Come lo si deve cambiare? Le proposte che con Giorgia Meloni ne abbiamo fatto. Ora probabilmente faremo una conferenza stampa per presentare come si può fare una riforma fiscale. Cerco di fare veloce perché se no mi dilungo troppo su queste cose. Come se una riforma fiscale... E sì, Maurizio, così vediamo anche se c'è qualche domanda poi nei ultimi dieci minuti. Se sei d'accordo, così vediamo anche se qualcuno vuole domandare o chiedere qualcosa nei ultimi dieci minuti. Vai pure tranquillamente. Però è molto interessante quello che sta dicendo. Sì, sì, infatti, assolutamente. Ci mancherebbe. Allora, vi dico, la mia proposta si articola su tre aree. Allora, la prima è l'IP. Oggi abbiamo un meccanismo a cinque aliquote. 23, 23, 27, 38, 43, 41 e 43. Quindi 23, 27, 38, 41 e 43. Se tolgo di mezzo le due aliquote che incidono sulle classi medie, quelle sui redditi medi, e a corpo, creo solo tre aliquote. 23, 37 e lascio 43 per non farci che vogliamo favorire i ricchi. Non ho favorito le classi medie, ma delle risorse. Le troviamo. Togliamo di mezzo il reddito di cittadinanza. Lasciamo solo le risorse, perché io mi rendo perfettamente conto che ci sono situazioni. Quando avevamo gli esseri al bilancio, eravamo ben consapevoli che c'erano situazioni di disagio. Ma io voglio dare le risorse a chi ha il comune che può intercettare effettivamente chi si trova in una situazione di disagio e non solo 10 miliardi del reddito di cittadinanza che vengono oggi. Quindi dico, le due aliquote riesco a fare un meccanismo, tolgo quelle due aliquote intermedia e faccio un meccanismo a 23, 27 e 43. A questo ci aggiungo la decisione del reddito orientale che è la nostra battaglia e soprattutto in questo modo funziona bene, perché se io nel 2021, se io ho avuto pochi redditi, o sono stati in perdita e quello che faccio nel 2021 è aggiuntivo rispetto al 2020. Su quello vado a pagare un aliquote del 15%. Io ho incentivato lo sviluppo, la crescita per quello che potrà farsi nel 2021. Io ho contrastato pure l'evasione fiscale perché altrimenti lasciando le cose come vuole fare il governo non funzionerà. Irest, ultime due battute. Bisogna lavorare sull'imposta sul reddito delle società e fare che cosa? Abbassare l'aliquota, dire oggi l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società è il 24%, dire che io l'abbasso di nove punti se quest'impresa che cosa fa? Fa occupazione a tempo indeterminato, quindi anziché distribuire l'utile, la ricchezza che produce, assume a tempo indeterminato. In quel caso gli abbasso la tasca. se l'abbasso la tasca in capo alla società e recupero IRPERF in capo al dipendente, sono quasi in varianza di oggetti. L'ultima cosa e poi mi taccio è la web tax. I giganti del web vanno tassati, ma tutti stanno parlando di web tax, nessuno la potrà fare, perché si oppongono. Per fare una web tax è necessario che vi sia consenso tra tutti i paesi dell'Ox. i primi a opporsi sono i dati che dicono no, i giganti del web pagare le imposte negli Stati Uniti. Perché devono pagare le imposte negli Stati Uniti? Perché il bene immateriale, il know-how, è radicato negli Stati Uniti. Quindi altri paesi, tipo i paradisi fiscali europei, Irlanda, Lussemburgo e Olanda, si oppongono. Quindi la web tax, che sta già nelle norme, non si può applicare. La cosa che dico io, possiamo fare un'altra cosa che si può già fare. Dire, ma tu società, tu gigante del web, c'hai in Italia una stabile organizzazione perché produci ricchezza? Già una norma c'è, ma è difficile, è di difficile applicazione. Perché bisogna andare a dimostrare, la Guardia di Finanza, la Procura di Milano ha riuscito a farla, ma con enormi difficoltà, perché ha dovuto dimostrare che c'era una stabile organizzazione in Italia. Io ho pensato di fare un meccanismo di inversione dell'anere della prova. Dice, per me, per il solo fatto che tu produci ricchezza in Italia devi essere tassato in Italia, ma non sui ricavi, non sul 3% di ricavi, ma su tutto l'utile, su tutto ciò che hai realizzato al pari della società italiana. Questo lo si può fare direttamente nella legge di bilancio. io ho pensato a recuperare i soldi dai giganti del web e in qualche modo a venire incontro anche alle piccole imprese, che io faccio sempre l'esempio delle persone che vanno a provarsi le scarpe in un negozio di calzature e poi acquistano le scarpe su Amazon. Ecco, queste cose, secondo me, non possono funzionare. Scusate, mi sono dilungato troppo, però la materia, come potete ben comprendere, è molto complessa. Mi fermo qua. Grazie, Maurizio. Ringraziamo Maurizio Leo per la sua per la sua lezione interessantissima, no? Assolutamente non ti sei dilungato troppo, anzi, penso che sia stata di grande interesse per tutti quelli che ci hanno seguito e nonché per il sottoscritto, fra l'altro, anche in previsione della prossima manovra che appunto si incardina poi in commissione come ricordavi dal 9 dicembre. Ecco, io a questo punto direi ringraziando Maurizio Leo che se ci sono domande questo è il momento giusto per farle o in chat o anche interloquendo direttamente. Ovviamente teniamo che ci sono una decina di minuti, mancano dieci minuti o poco meno alle otto. Se qualcuno dei partecipanti vuole o in chat o anche direttamente interloquire e porre delle questioni, due, tre, quattro questioni, insomma vediamo, siamo qui per rispondere per un'altra decina di minuti e poi ci salutiamo e terminiamo la lezione. Quindi io inviterei chiunque voglia da questo momento in poi a porre domande e questioni nelle modalità che ho detto in questo momento. Se ci sono ovviamente domande e questioni. Se invece siamo stati chiarissimi. Scusa Sergio, non vedo le chat, magari me le dici tu se quelle che vedi io non riesco a vederle, aspetta, forse ecco qua forse. Adesso ne vedo una, eccolo qua. Allora, io cerco di riassumere questa di Mario Presutti che dice, la regola che la vedi anche tu, è arrivata in tempo reale a questo punto, cioè dalla luce della lezione di oggi mi sembra che si potrebbe vincere che anche in campo economico e del bilancio ci siano delle vere forzature se non degli abusi procedurali. Questa mia sensazione è corretta, il capo dello Stato nel caso non dovrebbe difendere anche le procedure a garanzia dello Stato di diritto e dell'opposizione. Quindi è una domanda più politica rispetto a questa forzatura nei tempi essenzialmente che accennavi anche tu. Eh sì, perché obiettivamente da norma di legge, dicevo, i provvedimenti normativi sono la legge base del 2009 e poi la disposizione del 2016 che ha integrato e corretto. Prevede questa tempistica, i 45 giorni un ramo del Parlamento e i 35 un altro. Quindi stiamo sovvertendo. Si potrà dire che questa è una legge ordinaria, sono previsioni non tassative, però effettivamente si deve, sino a quando esiste il bicameralismo, è necessario che i due rami del Parlamento possano pronunciarsi. Questo sistema è assolutamente fuori dalle regole. Vediamo se c'è qualche altro. Aspetta, voglio vedere se io non vedo... Vedi se anche tu, io qui le chat le sto vedendo. Io vedo le domande direttamente a Sergio Marchi in chat, grazie. Probabilmente ti vogliono... Ecco, ne abbiamo un'altra, io così te le cerco di riassumere e girare. Ve le dici tu e poi vediamo. Va bene, va bene. Allora, Michele Napoli che ci sta seguendo ci dice, una delle proposte avanzate per riformare quello che definiamo sistema fiscale che assomiglia ad un puzzle pieno di tessere mancanti o in equilibrio precario è la cosiddetta cash flow tax. Cosa ne pensa? Quali proi compro? Quali promedi di attuazione? Cash flow. Allora, spieghiamo che cos'è questa cash flow tax. Riguarda soprattutto le imprese. Oggi le imprese determinano il reddito per competenza, trame le piccole imprese dove c'hanno un sistema misto cassa competenza che significa competenza, che non si viene tassati in relazione agli incassi. Quindi il ricavo diciamo si tassa nel momento in cui sorge il diritto a percepirlo e non quando effettivamente si incassa. La proposta della cash flow tax invece è una proposta che dice io ti tasso quando hai incassato. La spesa te la deduci quando l'hai sostenuta. Sostanzialmente questa è la logica cash flow tax. Può avere un senso, però bisogna stare attenti a delle cose riguarda i cosiddetti componenti straordinari. Se io acquisto un bene strumentale posso scaricare tutto il costo del bene strumentale subito. Se io mi vado a vendere un bene che non è un bene merce ma un bene plusvalente la plusvalenza la tasso subito. Quindi la cash flow tax da un certo punto di vista è condivisibile perché sostanzialmente si tassa ciò che viene incassato. Il credito tassabile è la differenza finanziaria tra incassi e pagamenti. Però bisogna fare queste correzioni sul eccessivo costo deducibile per un bene strumentale che mi dà la sua utilità su più anni e sulla plusvalenza immaginiamo di avere un immobile lo andiamo a vendere e non lo posso tassare tutto in una volta altrimenti non si avrebbero proprio ossia le risorse finanziarie che ricaverei dalla vendita di questi immobili verrebbero tutte tassate immediatamente. Quindi è una strada da percorrere ma con grano salis. Non so se ho la risposta. Penso di sì vediamo se eventualmente Michele Napoli mi sono andato da rifili tra l'altro il direttore dell'agenzia dell'entrata ha lanciato queste proposte. Mi pare assolutamente condivisibile il ragionamento anzi grazie grazie per la risposta. Sì questa era un'idea di Ruffini perché il direttore dell'agenzia dell'entrata ha lanciato ma questa è un'idea che alcuni studiosi alcuni economisti per esempio Versiglione e altri studiosi americani hanno parlato della liquid tax e via dicendo è una strada percorribile però con le dovute attenzioni leggo da Carlo Lombardi una domanda per il professor Leo il bilancio dello Stato è per caso o per competenza appare ora sulla mail entrate e uscite ossia allora la competenza sostanzialmente è un bilancio in cui bisogna considerare le entrate accertate e le spese impegnate quindi un bilancio di internazionaria quindi nel momento in cui accerto delle entrate e qui si viene poi a determinare la questione dei residui allora per esempio nel momento in cui l'amministrazione finanziaria accerta delle entrate queste entrate sono iscritte a bilancio e le spese impegnate sono spese che sono iscritte a bilancio ma può accadere che poi a fine esercizio non ci siano queste entrate non siano realizzate o le spese non siano sostenute quindi bisogna poi tener conto della vicenda dei residui una considerazione questa è una domanda di Luca De Carlo però la voglio leggere dice il bicameralismo non esiste più in questa legislatura sono rarissimi i provvedimenti che hanno fatto i tre passaggi però c'è il record dei ricorsi e della fiducia è in linea con quanto dicevamo prima invece ce ne sono altre due Federico Laudazzi ci scrive abbiamo visto che dal 2011 l'UE ha iniziato ad entrare in dettaglio una legge di bilancio ma a che livello sono cogenti le sue raccomandazioni il governo di un singolo paese è in grado di rifiutare le raccomandazioni UE per seguire i propri finiti politica economica beh ossia astrattamente questo potrebbe farsi però c'è un riflesso una ricaduta per quanto riguarda i mercati finanziari perché nel momento in cui io mi disallimmo questo scostamento quest'anno fortunatamente applicheranno diciamo i limiti previsti per il rapporto deficit pil però nel momento in cui come ha fatto l'esempio vi ricordate che la Francia ha sforato un'esempio di un debito pubblico che è rispetto a quello chiaro i titoli poi del debito pubblico ne risentiranno perché diciamo gli investitori non nel momento in cui si sfora non rispetta i parametri fissati dall'Unione Europea a parte la procedura di infrazione che poi può essere avviata da parte dell'Unione Europea ma ci sarà un effetto immediato proprio sui titoli del debito pubblico e questo è un effetto da scongiurare due domande che racchiudo in una sola da Stefano Alfonso e l'altra da Roberto Aprile sono sull'articolo 81 della Costituzione riguardo l'equilibrio del bilancio sono molto simili il bincolo di pareggio di bilancio che leggo una ma sono quasi uguali come incido sul bilancio l'inserimento dell'articolo 81 della Costituzione e del bincolo di pareggio in serie di rendiconto consuntivo come si potrebbe rendere maggiormente fruibile ai cittadini rispetto a effettuare lo Stato grazie e queste sono più o meno domande simili sul bincolo di pareggio in Costituzione ossia il bincolo di pareggio fu un lungo dibattito che si fece nella mi ricordo nella sedicesima legislatura quella del del pareggio di bilancio che poi rimane sempre una pia illusione perché poi ovviamente nel momento in cui ci sarà necessità di fare spesa pubblica e via dicendo il vincolo del pareggio è chiaro che quando andiamo a fare il rendiconto come ricordava Sergio che è l'atto finale della gestione finanziaria questi disallenamenti potranno emergere e poi incideranno sul cosiddetto saldo netto da finanziare quindi bisognerà trovare risorse aggiuntive per poi in qualche modo arrivare a questo pareggio di bilancio e poi un'ultima se non ne arrivano altre di Carlo Lombardi ci chiede questo sistema a entrate accertate spese impegnate è compatibile con la logica del sistema di monitoraggio o è? Ebbè ma è proprio allora la logica ossia se noi dovessimo pensare a un modello ideale di di bilancio dovremmo pensare al modello di competenza o al modello di cassa perché modello di cassa vedo le entrate e le uscite invece il modello nostro che è un bilancio di tipo finanziario deve tendere alla competenza quindi vedere quanto effettivamente viene ad essere quanto si dovrebbe percepire e quanto si dovrebbe spendere quindi è un modello che diciamo è validato dall'Unione Europea perché come dicevo il il 6-pack e il 2-pack quei due provvedimenti che sono stati adottati nel 2011 e 2013 hanno detto il modello il vostro modello di bilancio va bene però è un modello di bilancio che secondo me non rispecchia quello che è il modello ideale il modello ideale è la competenza la competenza che significa vedere tutte le entrate che indipendentemente dall'accertato e dall'impegnato devono rispondere al diritto sostanzialmente che cosa si intende per competenza io le entrate e le spese le debbo contabilizzate quando sorge il diritto alla loro percezione o quando sorge l'obbligo della spesa e poi verificare la cassa quindi non l'accertamento è un atto formale faccio l'esempio quando l'agenzia delle entrate diciamo contesta il contributo contesta al contributo di non aver dichiarato correttamente il reddito fa un atto di accertamento questo accertamento rientra tra le entrate accertate però dalle entrate accertate alle riscosse ce ne vuole quindi poi si formano dei siti c'è tutta una gestione che è sicuramente complicata bene vediamo qualcun'altra se abbiamo ancora anche se se Maurizio ancora qualche minuto di disponibilità magari ci vengono davanti cinque minuti che stanno arrivando molte molte domande allora ne leggo due o tre di fila così magari ci chiede Marco Muggia quanto ci limita la questione dei residui che si origina dall'aver posto l'equilibrio di bilancio in costituzione sulla reale capacità di mettere risorse nell'economia quindi sui residui e poi un'altra da parte di Maurizio Cataldo interessante se lo possa fiscare speriamo arrivi in porto come si fa però a determinare una tax cap ovvero un tetto oltre il quale la tassazione diventa iniqua allora per quanto riguarda la prima questione il residuo è proprio il meccanismo attraverso il quale si vede se quelle trate accertate le spese impegnate effettivamente si riscuono oppure se il bilancio presenta degli elementi di criticità quindi è il banco di prova per vedere se effettivamente ciò che sono i bilanci poi in quella fase che poi in sede di rendiconto bisognerà verificare se le cose sono andate bene o sono andate male invece l'altra domanda quella del tetto fiscale allora una delle cose che bisognerebbe mettere in costituzione è proprio fissare un tetto massimo di tassazione che riguarda non solo le imposte radiali ma anche le imposte locali quindi bisognerebbe pensare un meccanismo attraverso il quale si dice non si può andare a tassazione del 43% dico questo perché oggi la tassazione IRPF del 43% è un effetto placebo perché in realtà è molto maggiore la tassazione noi oggi abbiamo le addizionali le addizionali regionali le addizionali comunali quindi superiamo ampiamente la misura del 43% arriviamo a 45% in alcuni casi arriviamo pure al 50% se ci mettiamo pure l'effetto contributi quindi è necessario ridurre il carico fiscale però ridurlo in una logica appunto non sovvertire il sistema ma fare in modo che lavorando all'interno dell'attuale sistema togliendo quelle due aliquote in qualche modo riusciamo a venire incontro alle fasce delle medie quindi ai contribuenti che hanno un reddito che si attesta sino ai 55 mila euro e non subiscono una tassazione che oggi arriva al 38% e in qualche modo rivedere pure il meccanismo delle detrazioni lasciando solo quelle più importanti le spese mediche le spese per lavoro dipendente gli interessi passivi quelle che sono rilevanti ma altre cose secondo me si potrebbero pure togliere di mezzo insomma fare quella che è la revisione delle cosiddette tax expenditure due cose veloci e poi direi che chiudiamo intanto delle due che mi arrivano anche qui su whatsapp che mi gira Sabina da parte di Fabio Trapani prima di effettuare una riforma fiscale non sarebbe più opportuno risolvere una volta per tutte le evasioni fiscali beh io penso che sulla lotta all'evasione siamo tutti quanti d'accordo ma la riforma non credo vero Maurizio che ovviamente incida sul tema della lotta all'evasione fiscale sono due temi no? io al 100% allora io allora io ho sentito parlare di lotta all'evasione fiscale tutta la vita da 40 anni da oltre che mi occupo di queste cose però di concreto io ho visto sempre ben poco poi che cosa fanno oggi la vera strada per contrastare l'evasione fiscale è quella di far funzionare bene tutti gli elementi a disposizione dell'amministrazione finanziaria oggi l'amministrazione finanziaria ha a disposizione banche dati pensate pure agli ISA gli indicatori sintetici da affidabilità che è un altro brobrio che ha preso ho preso il posto degli studi di settore allora oggi l'amministrazione ha tanti e tali di quei dati diciamo veramente calibrare il diciamo il recupero di materie imponibili e tra l'altro un'altra non l'ho detta è quella di creare a mio modo di vedere proprio sulla base dei dati di cui dispone amministrazione finanziaria il cosiddetto concordato preventivo biennale già all'inizio il fisco può dire a contribuente dice guarda io ormai la tua situazione la conosco soprattutto nel 2021 se io ti dico questo dovrebbe essere il reddito lo nettizzo delle perdite che sono derivate dal 2020 e ti faccio una proposta dice guarda tu se mi paghi questo per due anni stai tranquillo quindi un altro elemento che si può inserire nella riforma del sistema IRPEF è il cosiddetto concordato preventivo biennale che consente alle imprese di sapere subito quanto devono pagare e una volta che onorano questo debito tributario stare più tranquilli sul versante di tutti gli adempimenti fiscali che devono osservare Alfredo Iudice ci dice secondo lei il 9 dicembre dove si voterà la modifica del MES c'è qualche possibilità che il governo venga battuto insomma io personalmente non lo so non credo però ce lo possiamo augurare però dalle dichiarazioni che fanno perché si distingue il MES nuovo dal MES vecchio dice e là mi sembra che poi le posizioni sono abbastanza fluide no? non si capisce chi sta da una parte e chi sta da un'altra non mettiamo non mettiamo lì non vivremo solo vivendo insomma esattamente Manuela Stefoni ci scrive per tre volte questa in chat quindi evidentemente ci tiene proprio una risposta e noi penso gliela diamo ci dice in attesa della web tax si potrebbe prevedere un contributo delle imprese che sostituiscono l'utilizzo umano con la digitalizzazione con l'introduzione di una sorta di certificati anziché verdi chiamoli sociali ciò per reintegrare la perdita di gettito dovuta alla prossima ondata di perdita di lavoro che ne pensa? ma io sono dell'idea che la strada maestra è quella di dire guardate che quel sistema che ho pensato io aiuterebbe moltissimo la guardia di finanza le procure e questi giganti del web pagherebbero subito vi dico perché pagherebbero subito perché oggi il combinato disposto tra agenzia delle entrate e procura della repubblica funziona bene ma hanno difficoltà perché che succede? se la guardia di finanza dice per me tu gigante del web siccome produci le reddite in Italia hai utile però devo andare io a dimostrare che che c'è diciamo una stabile organizzazione virtuale perché c'è una significativa presenza economica in Italia questo consente alla procura della repubblica di fare che cosa? di dire tu hai omesso la dichiarazione in Italia quindi avendo omesso la dichiarazione ci sono conseguenze penali i giganti del web che cosa? i manager si mettono paura di questo e pagano però l'amministrazione fa fatica perché poi arrivano i legali chi li assiste in tralci col sistema per me per il solo fatto che tu fai utile in Italia c'è una presenza economica significativa inversione dell'onere della prova per me sei presidente in Italia la procura della repubblica manda subito avvia il procedimento penale vedete che i manager dal primo all'ultimo vengono pagano e pagano in Italia come pagano le imposte le società italiane questa è la strada applicare meccanismi diversi come quello attuale del 3% sui ricavi è poca roba il 3% sui ricavi poi non si riesce neppure a prendere perché la prima parte è degli altri paradisi fiscali europei Irlanda che fanno gli utili non si fanno i paradisi webtax o non si fa allora possiamo pure fermarci qui che dici direi assolutamente di sì ci sono qualche altra domanda dalla quale poi sono finite crodo del gettito fiscale crea dei problemi per il bilancio 2021 chiaro il problema di gettito c'è questo è evidente poi vedremo i provvedimenti sono anche stati illustrati io ringrazio Maurizio Leo per la sua lezione anche per aver risposto praticamente a tutte le domande che sono arrivate ringrazio i tantissimi che ci hanno seguito in questa ormai ora e un quarto di interessantissima lezione e ovviamente l'amico Mario Ciampi segretario generale della fondazione Fare Futuro e il presidente Adolfo Urso ringrazio le preziosissime Sabrina Ludovica senza dei quali questo comunicamento non sarebbe assolutamente potuto fare e auguro a tutti una buona serata sperando di poi magari di sentirci anche nel corso e dopo la legge di bilancio per fare un po' il punto di quello che è successo nelle prossime tre settimane grazie ancora a tutti e buona serata Buonasera e grazie Buonasera 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 Grazie Maurizio Buonasera Buonasera a tutti grazie Buonasera Buonasera grazie 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 mille professore arrivederla Buonasera un saluto a tutti Saluto a Maurizio Buonasera Buonasera arrivederci Grazie arrivederci Grazie